La Toscana candida all'aretino Domenico Gianni, ex capo della Gendarmeria Vaticana per la presidenza nazionale dell'Assemblea delle Misericordie d'Italia. La notizia è stata diffusa da Alberto Corsinovi, presidente delle Misericordie Toscane, confermata dallo stesso Domenico Gianni. Ai nostri microfoni. Diciamo bene, non è una candidatura, è una richiesta che viene dalle Misericordie, è una richiesta che viene dall'ambiente ecclesiale, quindi dalla conferenza episcopale che mi è stato chiesto questo servizio. Io ho fatto una vita di servizio anche alla Misericordia perché avevo 14 anni quando ho iniziato a fare questo servizio. Quindi quando mi è stato chiesto di mettere a disposizione un po' la mia persona in questo momento storico in cui credo ci sia bisogno anche di un nuovo umanesimo, in cui credo che la persona deve essere veramente al centro di tutto e la Misericordia ha una storia di servizio alla persona dal 1244. Quindi è una storia veramente lunga, una storia in cui tante persone si sono dedicate agli altri, seguendo appunto il motto evangelico, non sappia la destra cosa fa la sinistra. Quindi con questo spirito ho accettato questo servizio che se poi sarò eletto lo farò, se non sarò eletto non mi dispererò di sicuro perché veramente è a servizio. Non è che non lo faccio per altri motivi ovviamente. La nostra città ha appena vissuto la visita del segretario di Stato, insomma per lei sarà stato un po' come rivivere i momenti della sua veramente brillantissima carriera, carriera che poi insomma è terminata con un sacrificio che le è stato chiesto, un sacrificio importante. Certamente la visita ad Arezzo del Cardinale Parolin è stata un onore per la nostra città e anche un riconoscimento al servizio del nostro Vescovo che ha servito anche lui nella diplomazia vaticana, poi ha servito in altre diocesi. Quindi credo che è stato bello che anche con il suo venticinquesimo anniversario di ordinazione episcopale abbia avuto in occasione della festa della Madonna del Conforto alla quale tutti sanno quanto io sia devoto e quanto la nostra popolazione, la nostra città, la nostra provincia è devota alla Madonna del Conforto. Quindi la visita del Cardinale Parolin è stato un momento credo molto bello. Anche per me che comunque rimango tuttora molto vicino ovviamente alla Santa Sede è stata una gioia poterlo vedere qui nella mia città.